Buongiorno, ciao amici, un saluto da Robert Matery, oggi come mi è stato chiesto, vi farò vedere come creare, qui è stato un errore, come creare il giovanissimo giocatore della Juventus, Sakor, è andato un po' in tilt qua, Vajeba Sakor, allora c'è un piccolo problemino, vi farò vedere dopo, comunque, info del giocatore, nome Vajeba, cognome Sakor, nome solo divisa Sakor, nazione norvegese, squadra Juventus, è un centrocampista difensivo, può essere un centrocampista o un mediano, comunque centrocampista difensivo, numero di maglia 3 o 2, quello che volete voi, piede preferito sinistro, è uno di nascita 95 aprile, 24 aprile, 95, lui sarebbe un 96, ma non c'è un 96, perso 95, andiamo all'aspetto, è un alto 1,83 per 74 kg, se non c'è un po' inizio, allora, carnagione, la quarta, la sesta scusate, mi dirò la che dicevo prima, è nei capelli, allora lui praticamente avrebbe i capelli di questo tipo però sparati su tutta la testa e non così lunghi, però purtroppo stile lunghezza non c'è, quel tipo di capelli lì, perciò gli ho messo il dreadlock, afro e dreadlock, ok, però ci sarebbero questi ma non fan per lui, perciò quello che mi ha assumito un po' di più è il dreadlock, perciò mettete il dreadlock, colore capelli nero, barba senza barba, ok, sono un po' lunghi però vabbè, meglio che niente, sopracciglia, posizione sopracciglia alte è normale, forma sopracciglia stretta e sottili, poi occhi, taglio degli occhi è normale, dettaglio occhi distese è normale, dettaglio occhi 2 è aperta, colore occhi marrone, il testo, orecchie, posizione orecchio in dentro, lobo sì, naso, allora posizione naso, normale, tipo di naso, normale, profilo naso, normale ancora, narici allargate, dettaglio narice, normale, guance, posizione zigomi, bassi e sporgenti, tipo di guancia, piena, bocca, posizione bocca, tra larga e le tre, normale, labbra, normale, stile labbra, normale, mascella, alta e piena, mento, normale, passiamo agli accessori, lasciate com'è, cambiatevi solo le scarpe che volete voi, io ho messo queste, andiamo alle categorie, partiamo dall'ultima, portiere normale, mentalità, aggressività 75, intercettazione 70, posizione attacco 50, visione 65, rigori 60, per questo centrocampista della Juventus, movimento, accelerazione 82, scatto 82, agilità 70, riflessi 65, equilibrio 60, potenza, potenza tiro 60, salto 65, resistenza 70, forza 85 e tiro dall'istanza 60, è veramente un colosso, una specie di polpo qua, abilità, dribbling 65, effetto 55, precisione punizione 55, lancio lungo 70, controllo palla 65, difesa, tutto 60, marcatura al contratto scivolata, tutto 60, andiamo all'attacco, cross 60, finalizzazione 45, precisione testa 70, passaggi corti 65, al volo 45, piede debole 2. Bene, con questo abbiamo concluso con Vajibá Sakor, faccio vedere quanto ha, ha perché dici, salutiamo, grazie, un saluto da Robert Matery, 1900 Adelpi, vi faccio vedere quanto ha, e poi ci vediamo alla prossima, vi ripeto, se avete dei giocatori a consigliare, consigliatemi come ha fatto un mio amico, che ha consigliato di creare Sakor, per lui, perché aveva bisogno di Sakor, Vajibá Sakor ha 67, bene, grazie amici, ci vediamo alla prossima, se avete dei consigli da giocatori a creare, non abbiate timore di farlo, perché ve lo farò entro la sera stessa, o anche il giorno dopo, ciao amici, grazie di tutto, e continuate a seguirmi, e io creerò per voi i giocatori, ciao amici, grazie, Vajibá Sakor.